Io non sono di Milano, però già quando avevo due o tre anni venivo spesso a Milano perché un mio prozio si era costruito un palazzo a Corso Venezia, anzi, un palazzo con quelle quattro colonne che ora credo che appartenga a qualche salumiero giù di lì e allora in questo palazzo ogni tanto passavo qualche settimana insieme ai nonni, bisnonni eccetera, per cui già nell'infanzia Milano mi è stata estremamente familiare, venivo da Genova dove ho passato l'infanzia oppure da Trieste dove ho passato l'adolescenza e quindi Milano era in fondo il centro della mia attività giovanile. Poi invece più in là quando ebbe finito il ginnazio e liceo decidi di venire a stare a Milano anche e soprattutto per una ragione che poi io mi sarei sposato a Milano quindi già allora avevo conosciuto quella che sarebbe diventata mia moglie e Milano devo dire è stata subito estremamente aperta nei miei riguardi, conosco altre città molto più difficili per esempio Torino, Genova sono città molto più chiuse, Torino è una città con delle pretese nobiliari che non le spettano più per cui acclimatarsi Torino non è tanto facile, idem per Genova, invece Milano proprio per il fatto che i milanesi non esistono più, i veri milanesi sono quasi scomparsi, Milano è molto aperta, a Milano uno può sentirsi milanese anche se è nato in Polonia o in Turchia, mentre è difficile che uno si senta torinese o genovese se non è veramente nato in quelle città. Quindi direi che una delle caratteristiche di Milano è di essere una città, città aperta diciamo. Milano soprattutto in certi campi, per me per esempio in quello dell'editoria, del giornalismo, Milano è stata molto importante, a Milano c'erano già 50 anni fa delle librerie molto intelligenti. Allora, per uno che avesse interessi letterari e artistici, Milano era senza dubbio la capitale. Oggi purtroppo questa Milano capitale dell'arte è un po' scaduta, però rimane Milano come centro dell'editoria, come centro del design, come centro della moda. Quindi perlomeno queste tre categorie sono ancora al loro apice nella nostra città. Non si può non notare quante cose a Milano non vadano. Se pensiamo che Milano è la città più ricca d'Italia, che Milano potrebbe essere una città a livello europeo come Francoforte, come Lione, come Barcellona, come Madrid, anche come Londra in piccolo, dobbiamo notare che Milano manca di moltissime delle qualità che deve avere una metropoli. E questo perché? Per un'assoluta mancanza di progettazione da parte della sua amministrazione a partire dal dopoguerra. Era il momento in cui Milano avrebbe dovuto progettare se stessa, non solo per quello che riguarda la cerchia dei navigli o tutt'al più la cintura d'aziaria, ma per quello che è veramente la metropoli ambreziana, come si continua a dire. Dunque la Milano che va fino a Meda, fino a Cantù, fino a Erba, fino a Varese, fino a Pavia. Milano ha un milione di abitanti se si va fino a Piazzale Lauretto o fino al Castello. La città che vorrei è appunto questa, una città che funzioni, una città che sia pulita, una città che faccia il suo museo d'arte contemporanea come ha fatto Barcellona, come ha fatto Francoforte, come ha fatto in questi giorni Londra. Vorrei una città che avesse un suo museo della moda, una cosa fondamentale, auspicata da non so quanto tempo, una Milano che avesse il suo museo del design. Come dulcis in fundo, io penso che la cosa più piacevole, più auspicabile per una Milano del futuro, forse di un futuro un po' lontano, sarebbe di trasformare il suo habitat. Milano è stata fondata 10 chilometri troppo a destra dell'est o troppo a sinistra dell'ovest. Milano poteva avere il suo centro sul Ticino oppure sull'Adda. Io proporrei che Milano creasse il suo fiume.